Non è nuovo per noi come Andersen e la seconda cosa è che lo ribadisco, nel senso che loro, Tare di Mezzo, in questi ultimi anni hanno sempre, direi con mano quanto mai felice, felicissima in un pochi casi, scelto tra gli albi illustrati che provenivano da altre esperienze. Qui, voglio dire, ci hanno messo anche dell'oro, proprio nella scelta, devo dire, anche qui altrettanto azzeccata delle illustrazioni e della partitura grafica. Dunque, mi accorgo di un altro elemento. Ecco, noi abbiamo presentato i primi tre libri, che sono tutti tre libri di, come dire, di giovani, ancora giovani, di esperienze, alcune giovanissime addirittura, di esperienze editoriali piccole, ma quanto mai vivaci. Dunque, anche questo fa parte un po' del nostro DNA, cioè, come dire, riconoscere il lavoro dei grandi editori, ma allo stesso tempo promuovere il lavoro di realtà editoriali magari meno note o più giovani.